E' stato un risveglio del poco gelido per molti residenti del capoluogo, tutta la zona di Biella Sud completamente al freddo, comprese scuole, asili ed edifici pubblici. Di fatto tutto il perimetro della città che è collegato al teleriscaldamento ha subito un fermo dal pomeriggio di ieri. Stando a quanto dichiarato dai referenti della ditta che gestisce le forniture Engi, si è verificata una perdita di notevole entità tra Via Umbria e Via Rosmini. I tecnici hanno lavorato anche questa notte per ripristinare il servizio. L'assessore all'istruzione Gabriella Bessone è stata la prima a sollevare la questione intorno alle 8.30 di questa mattina, anche a fronte della preoccupazione che i numerosi bambini tra scuole primarie e dell'infanzia potressero affrontare temperature proibitive. La ditta del teleriscaldamento Engi ha garantito che entro la prima parte della giornata i problemi sarebbero stati risolti. Solo a quel punto l'assessore ha permesso la continuazione delle lezioni, che in caso contrario, dopo il pasto, sarebbero state interrotte per inagibilità dei locali. Tutto in via di soluzione, quindi, ma il disguido effettivamente è stato importante, anche per tutti i privati e soprattutto gli anziani, che in questo periodo dell'anno hanno dovuto affrontare una nottata e una mattinata al gelo. La detta stampa di Engi Cinzia De Santis si scusa ancora a nome della società per i problemi arrecati dal guasto. E meno male che anche da parte dell'amministrazione e del capoluogo qualcuno si sia fatto carico di questo enorme problema concreto per migliaia di cittadini. Perché da altri fronti la risposta è stata mi sto occupando di altre questioni.